POMODORE, MOZZARELLA, PASTA ASCIUTTA E MACCHIERONI, MELEZANA E PEVERONI, IL MIO SHOW COMINCIA COFFE, I BOLTINI, COTOLETTE, COSTOLETTE DI MAIALE, I CROSTINI DI CAVIALE, SONO CHI MI CHIEDERÀ, NIAMO BELLA, NIAMO BELLA, NIAMO BELLA, NIAMO BELLA, NEMO PER FAVORE, NEMO CINCO E DI RUOALE, NESSUNO INCHIERÀ, NEMO CINCO E DI RUOALE, NESSUNO INCHIERÀ, NEMO CINCO E DI RUOALE, NESSUNO INCHIERÀ, NEMO CINCO E DI RUOALE, N DANGI INGREDIENTI, CHE LANCIA, CHE MAGARRI RIMANGONO FERMI DA ME, ALMENO SE TU LIMI PER TE QUALI TAGLIATI, SO CHE SON TAGLIATI, PERCHE TANTE VOLTE NON CAPISCO QUALI SON TAGLIATI, QUALI NO, QUALI NO, QUALI NO, OK, SAI QUALI PROBLEMA, SO DEI BASTARDI, PERCHE HANNO CHIUSO PROPRIO LA PARTE PERFETTA DOVE TAGLIARE, CAPIRO? CERTA, OVVIO, DOVE PASSARE IMMEDIATAMENTE I COSI, ALLORA, LANCIAMO COSE, POINC, SCUSA, POINC, 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 POIN SON TAGLIATI, PUNC, POINC, 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 PUDRIULLO LA PARTE,非, LACCIAMO LÌ LÌ, VAI HERMA, IL PIATTO, MOLALO, MOOLA, MOLALO, NO VE NON VEVOLVO MONOLARE! ci sono delle carote qua aspetta non venire quando la delta ti prego non venire tutti qua massati no 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 non ho fatto niente non ho fatto niente volevo togliere quelle carote che erano in maniera ingombrante ok allora allora ci vuole poco prendi la carota e patata ok allora qua ci va allora patata tagliata comunque agente come riesce a proprio tagliato perfetto ok devo sperare fuori 1 devo sperare di lanciare il momento giunto vuole la carota la patata delta lancia e non voglio mischiarle con la stagalmo te il qualex un broccolo mi serve un atto che blocco di vento e lo so un atto devo dovevo riparare un muro scusate dai dei tanti bloccoli a rex adesso ci siamo adesso sono solo blocchi a tagliare non prendo troppi perché se no non si capisco più nulla prendili e lascia i lagri e darei un po di spazio ok te ti dai fermo serve quello col pollo pronto quello col pollo a uno di loro si ok scusa ok oh che bello quindi posso ehi dobbiamo chiudere solo alcuni lati ora ho capito come funziona aspetta che ti parlare per l'alanzia si si ti posso un po' di roba che le taglio ti cerco di mandarti il più possibile prendi poi compagate patate si subito cercando patate e carote tagliami una patata e una carota si 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 le stai prendendo allora vedo la carota taglia la patata e siamo a posto ah ma ancora questo è madonna ancora il vivo la patata patata si ne vuole a due il ciccione buona buona lascia vicino con l'ingresso esatto così acqua come lì che hai visto un po' più buona che si può il quattro per quanto quando hai detto di avere dettagliate io ho detto che ne manda un po' da tanto dei patate piuttosto date si patate si 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 no e non parlare solo due laveri smirlo pollo pollo prendi il pollo togli quel cosa i carote la vicino che se no è un casino la so tutte cose tagliate ok questo questo è il pollo va bene lo stick ok servono un uomo patate e carote a io mi piace ora la mia piatta è tagliato con il mio canale vado raga 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 aspetta sono il piatto prendi qualcosa perfetto sono un po' più qualche palla spero che ti devo lanciare un altro brocco ti devo lanciare no parli un po' di parola ti devo lanciare un brocco per venti lanciare un po' di carote apresi meglio carote c'è un po' di carota bene ripare il muro ripare il muro che lascia il muro che non c'è anzi e non posso più cavolo non me lo permette più non sto neanche vedendo come siamo la situazione perché non la voglio manco guardare sto giocando e non ci faccio caso con me siamo i piatti si vai 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 spostati rex che ti vuole ma la patrice un bocchio per capire una carota che un broccolo broccolo ok buona la carota patata che dove stesse apposto in teoria per il momento io cerco solo di sperare che consegni così posso mettere ok gli altri sono tutti quattro eccetto un po la 3 ok un po la 3 2 e 4 che è perfetto aspetta sto aspettando che griffus non è uguale con l'ho faiato però quello bruciato sto per bruciare sta per bruciare ok ok ce l'ho fatta hai detto alla cia si non aspetta che griffus passare le capate ok è un macello è un macello perfetto aiut non posso chiudere qui mangiare fuori 1 moltissimo carote il rex ho visto che ci servono i caroti ok ok non spingermi e non si è passato nel momento ok ci sono due pronti l'ultimo è pollo con solo carota e una patata prendi prendi questo qui e basta quello che devi passare ok grazie la varex la carota l'intera le occhio perfetto si aspetta aspetta che ho visto che manca troppa roba ok ci siamo madonna non sto proprio guardando niente sto solo giocando quarta ondata vediamo un po la quarta ondata no no io non sto manco guardando che ondata è c'è lol ho fatto dove l'hai messa di qua ok allora uno un pollo no aspetta 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 no 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 ok basta che ne avete abbastanza per il momento vai a fare le robe allora 1 2 il patata ok ma l'anno sto poi riparando lì è grave l'anno sto riparando proprio lì quindi dovete consumare prima roba per gli altri di là alla vostro lato ragazzo e una patata perfetto chiudete per di là raga per di là madonna ok allora carota è pronto in altro colpa dove 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 ok questo va qua questo va qua no 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 viva il schifo no eh cavoli sta l'avevo così fatta spegnilo 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 no 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 ho fatto quasi no cavoli mi ha distratto ma come ti ha distratto mi ha distratto mi ha pensato a un'altra cosa e mi sono sconcentrato cavolo mannaggia ce l'avevamo quasi fatta ero troppo concentrato no no era totalmente concentrale però non ho più capito nulla perché poi all'improvviso io vi ho detto andate a risolvere il cibo da quella parte che erano senza difese e niente ho visto solo casino oh no mia dura sta qua maledettamente però Rex mi è piaciuto come la facevi stiamo andando da dio no guardate è veramente tosta e poi sapete che l'ultimo è quella di piazzarmi guarda mi piazzo qua un coso e uno stick tu delta ci sei? si si sono aspetta ho fatto un casino lancia roba lancia per una balanza di roba aspetta che qua ho fatto un casino con il tasto non so che cosa ho combinato mi ha amato a chiarete nel momento meno opportuno prima eh uno tanto aspetta ok allora siamo voli uno così e uno ah uno tanto che quelli a tre quelli fatti a tre non sono con i con i cosi la con i carti di di broccoli quindi è facile da 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 differenziarli oh ecco ora si mi trovo avevo bloccato ho fatto un casino si però mi ha però mi chiami nel momento meno opportuno aspetta devo riparare dobbiamo riparare dove ragazzi hai dato a riparare in realtà o bravo nex ok non posso riparare perché dura giusto quel poco prende a solo poco vogliono il grassone arrivato senza offesa passa no no il broccoli ah si broccoli si che stai facendo lascia tu chi ce l'hai no con il primo tu qua non è l'alto ti ha lanciato la patata per ultimo molto caro tutto che è allora non è molto di rossi che io sto andando fuoco no no non è un po' non è un po' non è un po' ok non è un po' ok questo qua è uno col pollo e un altro po' un po' il tuo ragazzo lo strano lo dettogli di mezzo quello l'altro e non manca le patate qua aspetta un attimo trex elevati e metti le patate la 3 ce l'ho però non ci ce l'ho no dobbiamo chiudere per forza grazie ok del taglia le carote e la fondata delta patate si subito non chiude la chiudi dove dove appunto sai perché ho visto che si concentra solo non ti dà la possibilità di chiudere sempre capito più ammazzi più ti dà la possibilità di chiudere quindi vuol dire che dovevamo riparare un po che ne lo trattino in attimo ci sta passando il coso capito perché quando tu sei andata riparata l'altra parte non dove la tecnica della tagliare delta dal micro pesante agli dagli roba i propri carote cerco di dare il più possibile però sento iniziano a troppi ragazzi capisci più nulla ok bombata rex vai la tagliare 1 2 e 3 ok uno poi pronto e patate romani un brocco di sicuro ma abbiamo perso troppi punti ragazza peccato aspetta 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 allora pollo due polli vogliono un pollo qua perché questo ce l'ho già pronto nel delta vai a riparare quella che intanto lo ha ammazzato il mostro devo fare con questo vedete uno così non c'è una carne rex un broccolo una carota ok la carota adesso prima prima scusa scusa oh vedi 1 e 2 1 e 2 per esempio il caso è fatto per un bambino e 2 no non posso rimarrare raga perché devo no riparare 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 almeno ottimi fermo c'è quello il fatto anche se non lo ripari almeno gli ultimi un attimo impegnato non rallenti che anche quello importante adesso sì prima stavo fermo così come ne fare uno così per cazzo i miei così ho sbagliato questo non mi serve no fai un bel tavolo da un tavolo no patate mi serve ti devo lanciare i patate ho buttato quello giusto bene bene ho basta bersagliare mentre lavavi i piatti scusami però ma non vedo né carote né patate apri uno già? ok allora sto qua aspetta 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 rex vai via c'era un broccolo in mezzo alle due allora guarda allora qua serve uno di questi eh broccolo broccolo va nel successivo eh nel sì mi è sempre in questo qua non c'è una carota? sì bella 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 non quella ok una carota allora vanno steak quindi qua uno steak raccogli tutte quelle cose eh delta delta prova a tenerli impegnati un attimo qua no il piatto quindi ce l'ho fatta via ecco prova riparare un po' delta lancia roba sì sì prendo prova a riparare un po' questi ma sono senza roba da tagliare eh aspetta voglio che abbia troppa roba ok per il piatto se due sono pronti in piatto l'ultimo ok allora qua patate non c'è una carota non c'è una carota lo ha tra l'ultimo eh perfetto ecco devo chiudere per forza vedi vedi come devo giocare su questa cosa devo giocare su questo di fare non tutti i lavori oh ecco chiudila bravo 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 ma no maronna eh però stiamo spiegando finissimo ho sbagliato ok è buono cosa vuole è andata 5 ok è un pollo così questa lanciaroba e uno steak allora il pollo lo voglio lo steak lo voglio con la patata e la carota no no questa carota ok mentre invece io so sicuro che l'ultimo livello è una merda a confronto so sicuro ho stata sensazione questo è così figurati l'ultimo no l'ultimo sarà una noia una cosa stupidissima me la sento no attenzione che ci stanno delle patate lì in mezzo eh quindi non vi confondete ok impara quelle due cose là delta 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 no no qua 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 perché sennò ci dà solo danni uno due qui le patate tagliami con la patata che ci sono c'è un'altra patata lì in mezzo attenzione quindi non vi confondete aia pollo 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 è pronto è pronto dai passa dai a questo qui no vabbè sì va bene no è giusto e no perché così facevo una variazione di carote roba ok lanci carote e broccoli si 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 ho visto broccolote delta pari parano di quei cosi oddio siamo alla 5 ragazzi oddio aspetta si no 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 non mi informa chi pensa no allora uno stick ne va a tre allora uno stick ne va a tre no c'è il ciccione aspetta aspetta non lanciate le robe allora uno due tre welcome su due sac ok buono basta lanciarmi robe che sto cercando di non far bruciare la roba mi mi riempite le mani con cose ok questo va bene guardate una patata la patata la patata la patata pollo 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 ragazzi stanno bruciatutto ok no delta non levarmelo via rimettilo dentro fa no non bloccarti no lo so no mi fatto fare vedi nella nella fette che mi ha levato il coso guarda neanche cotto tra l'altro solo qua si che è cotto si che è cotto non è cotto delta perché mi ha interrotto la produzione era perfetto no a fuoco l'ho levato un attimo no perché ero lì che devo prendere il pollo e tu sei la che me lo levi in attimo e potete prendere un blocco perché perché proprio a questioni secondi capo erano vicissimi stavolta erano comunque per secondi secondo non ce l'avremmo fatto comunque abbiamo perduto dopo all'inizio troppi punti avevo perso all'inizio beh perché tu non avevi tasti giusti e c'è un attimo esatto forse bene rifacciamo rifacciamo che tanto ormai ci abbiamo preso la mano più o meno portatevi a questa roba ok ok taglia taglia allora una carota e una patata la patata c'è sempre quello che hanno detto perché è lo standard della patata qua non manca mai ok perfetto il problema è che non abbiamo possibilità di aprire quello da sotto che sennò era una passeggiata no rex l'hai lanciato dentro il coso no rex e vedi non lo devi lanciare la verso il coso ma è davvero scorta l'imbalzato non è che eh però e tanto che serviva qualcun altro quindi ok ok aspetta che devo mettere un'aria forte anche di grassone ho capito il resto qua ok allora carota bene perfetto la patata aspetta 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 leva levati perché sei qua no no è un blocco dove non doveva essere ah ok allora andiamo questo va bene questo va bene aspetta che finisci di fare il lavoro quindi lancio cosa e lancio la qua dal basso dal basso e ci provo a capire qua c'è una patata ok ah questo è già pronto perfetto questo vai che è buono qua serve la patata la patata eh c'è dai perfetto e poi l'ultimo patata non lo può stare a fuoco si questo si provo a me che pieno una volta ok buono l'ultimo eh aspetta qualcos'altro che non ci hanno patata aspetta ho voluto bloccar si 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 carota perfetto la voglia la voglia la voglia la voglia no 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 spingermi perchè mi cavoli cavoli che non vedi che stavo lavando e l'avevo presi in tempo l'avrei presi in tempo non so non guardare i piatti giù tu guardare pietanze ok buon no perchè facciamo due due cazzo di carote no che la tocca io non ho lanciato carote stavolta io stavo cercando i giovani sono informati troppo di nuovo no grig eh 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 un attimo un attimo una cosa alla volta però rex aspetta no 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 aspetta ok ci siamo sei al tuo posto nato è andata perfetto ok buono buono ti ha detto prova a fare qualsiasi cosa per trattenermi eh non posso non lo fa fare ok una carota siamo a posto una carota sta perfetto adesso adesso tratteteli in qualsiasi modo mettete mettete robe io intanto la vi piace no 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 non mi fa far niente infatti ok fuori uno ora posso far qualcosa qui e fuori due ok ripariamo tutto lanciatemi roba ragazzi lanciatemi roba da un po' più nulla no non puoi far nulla Rhygas praticamente funziona a un tot tempo 2 3 battiti per ogni kill praticamente capi come funziona si si bene bene allora una patata forse avevo una patata e una carota forse possiamo regge ora prendo io non fate danni rex mobiliati tutta quella roba lì e portata via non ho portata via portata via così liberi spazio ok perfetto che adesso ci siamo allora questo vasto disgraziato poi un altro polvo che tagli quindi mi serve una patata e una carota ok la tirando con le patate e carote che le sto lanciando a tributo è una patata no 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 la patata ha portato questo e non perché sono ingrumate la posso chiudere quasi morire lurido basta e vedi che stai facendo qualcosa certa volte fai qualcosa chi quando la ma intendeva nel senso che ogni tanto riesce a fare con le assi più o meno perché dipende da quante chi facciamo comunque non ce la facciamo 3 cioè vuole contaventa milano ma se vede palesemente no 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 non si vede niente ma io sono un ottimista sono quale è uno a te la qua uno l'ho fatto solo come quello youtube perché che mi ha risposto in maniera minuto e c'entra buono perfetto l'altro è un altro a tre quindi due a tre un'altra carota e lo stai ragazzi sono così adesso di nuovo in bui cacchio di broccoli che vi lanciato dentro il padre lavaggio stavano durando dritto è bene a cavoli mettiamolo qua intanto allora dove il pollo prossimo al pollo ce ne vuole un altro con lo stico adesso servono parlato stento scusa cavo mio o quella cazzo di patata ma io ho una nera micidiale voglio colpire la patata una patata e una carota no allora sta qua se la si può fare dai dai cucinati ok ripara ripara qualcuno riparte qualcosa da qua con il piano in quanta qua aspetta 1500 e 2 qui ok l'accia l'andegna ho la carota del mondo meno opportuno griego ex auto una un'ora mira micidiale a lanciare le coseirk manca uno riparte colori parli ripara non lo fa riparare anche al voglio provare è solo questione di non facciamo male vaga prima di avviarci facciamo così rex io ti passo la roba tu qualsiasi roba la lanci verso di te e basta e tagli basta prende a robe tagli ma se andare avanti indietro lo sai quante volte va poco la cucina molto meno perché gribus comunque si mette a lavare i piatti al volo e fa conviene molto anche quando facevo giocatori singolo la mia tattica era so che il tempo esatto in cui devo lavare i piatti mi gira e prendo subito il piatto invece se mentre non lavare i temi sposti per lavarlo te io voglio un qualche secondo si fuori il coso spostate per lavare il piatto e nel casino quindi è una questione di fiducia lo so che è un po panico perché io mi bando diciamo quello che è successo purtroppo è già bruciata e quindi non è bruciato perché abbiamo perso quel secondo in più del cavolo e avevo notato ecco perché perché lui doveva muoversi tanto andare a prendere pietanze lontane o lavare i piatti no 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 ce la fa benissimo con lo scatto riesce a salvarsi capito sul momento quindi rimane in quest'area e lancia e prenditi le cose che ti servono uno qua un pollo qua e una roba qua te li tagli e te li metti vicino a te Rex vicino a te non te li lanciare io devo spostarmi comunque perché se non riesci a lanciarle direttamente a me ah sì basta che prendi e rimanino alla tua zona così ooooh ok per noi della mappa come hai fatto lo sai solo tu la furia la furia funesta furia funesta ok qua se direbbe no e non ho più posti c'è una carota c'è una carota ti devi spostare Grievous per favore se no qui abbiamo casini ok già iniziamo ad avere problemi e spero ok allora carota caro davanti a te broccoli ok perfetto ci siamo allora ce n'è uno a tre sì ce n'è uno a tre quindi devo fare uno a tre traigo il broccoli ok ragazzi qua già si stanno a rovinare l'esistenza che è caduto davanti a me due perfetto lo ce ne vuole una tre quindi 12 rex stai un'altra carota e non ce l'ho uno steak ma ce l'avrai no ok due quelli si chiamano broccoli non sono cavolo vedi che se gliela mollo lì vicino è meglio che queste qua che ho quale vengono qua da qui non ce la fa prendere ok so cretino io però ecco qua devo riparare questo che devo pigliarti di lanciarti broccoli preparati con il pollo una seconda al pollo perfetto allora pollo ci vuole solo due carote quindi un'altra carota e siamo forse ex vai di carota il taglio il corpo riparate il coso riparare riparare il ciccione maledetto e non posso perché dovete ammazza per forza qualcuno prima di riparare quella ma colino non lo fa non lo fa purtroppo è bastardo sto gioco che se lo usi un pochettino ragia pagna pagna taglia i cosi ma ma poi posso lavare i piatti ma poi dove l'ha lanciato quello dall'altro mondo io questo io non ho credito io di solito sono qua che lavo i piatti poi mi trovo con una carota in mano che sia caso ok allora proviamo a prendere del pollo vediamo se hai davanti a lanciare tutti e quattro sono quindi più o meno cacchio scordata che da una parte devo parlare come qua attenzione greco rex di mischiare la roba e materiali questo a tre quindi uno non è scomodo e quello che dico grazie perfetto ecco per non spostarli ok 1 2 no lì 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 poi i piatti e i piatti sotto i piatti no bravis prendi noo rimani la rimani la io ti lancio tutte le cose che te e ma io devo venire la prendere se mi lanci la roma e anche non lo andiamo ho lanciato nulla tanto 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 a sera presa lui o ora posso riparare un attimo questo che era un po danneggiato scusami e questo ok buono allora su poi a 3 quindi un perfetto 1 2 da me prendi la patata e tra un perfetto poi la patata broccoli broccoli mi vanno bene vanno bene vanno bene così broccolino ok quindi prima sto qua poi aspetto un pollo cosa qua va a 4 quindi 1 2 3 3 qui 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 cacchio eh no perché lo steak ho fatto riuscito a fare ci sono dei broccoli la cucina spi che no lo pica 3 quindi il broccolo lo mettiamo per conto su una carota e lo stico e voglio lanciare prendi quel piatto quando poi c'è la faccia faccia mai perfetto ok prendi finanzi più carote possibili grivos ok questo va qua questo va qua e quello del pollo che è l'ultimo ok ci siamo non lo fa riparare cavolo non posso fare nulla piano raga ok chiudete la chiudete la chiudete la chiudete la perfetto lascia un po' lascia un po' non fa tutte e tre così posso chiudere capito vedi come funziona sto gioco non puoi farli chiudere tutti perchè basta e delta mandami cose ok però non li mischiare non l'ingrobbare troppo perché se non si capisco più quale sono le patate e cosa ok questo va qua ok questo va qua ok lo facciamo una patata a 3 sto qua eh 1 patata e carota ok buono lo steak a 4 quindi 1 2 3 ok l'ho lanciato profetto perfetto certo piatto 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 allora piatto qua buono e hai tutta carota e mollo aspetta rapato ad ora via 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 no niente raga ho un problema qui 1 2 1 2 perfetto andata andata andate adelante levatevi qua è campo un po libero, però posso farlo si, 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 subito, subito cercare di lanciare il più possibile di robe perché è un casino toiti grievous, perfetto c'è tutta roba lì uomo, inchia zitto ah ma io posso andare a chiudere qua, è vero altro che non si ero patate ok, allora, su a tre, allora, carote carote stanno lì, carote si calca, non ne siamo uno di carote si, ok si lancia il più possibile grievous, ok prendi qua che devi prendere ok prendi, vai, vai perfetto ok, poi resto qua allora, questo è un carota, quindi dammelo uno carota mentre lo steak allora, il pollo non me lo fa, cavolo il pollo non mi sono di troppo cavolo piatto ok no poi uno allora lo steak cioè lo steak e lo sti discazzati mangiano troppo coso cosa serve ragazzi perché io vedo la chiave tutta roba guardata ok, una quattro perfetto poi lo steak no va a tre quindi un broccolo coso e ragazzi non posso far più nulla come l'ultima ondata eravamo erano gli ultimi tre ma ho deciso questi due grassori che mangiano tutte e due quindi come valgono quattro e ho sbagliato lo steak non devo sbagliare lo steak madonna stiamo a fare sta partita che è qualcosa di allucinante no no è più difficile tutta la campagna messi insieme sì mamma mia non ho mai avuto così perché sono cinque perché se ero in quattro l'avevamo già finita un botto più o meno è colpa di quel coso che non siamo a sbloccare la cazzo di prigione che c'è sotto e sai perché sai come si gioca in cucina usa il denaro ottenuto col servire delle portate per riparare le barriere e la salute della cucina raggiunge lo zero sarà game mover si riparare le barriere ah ecco perché hai capito guardiamo i soldi le barriere ripariamo con i soldi sì dobbiamo raccar perdere i soldi dobbiamo ah ok allora raga non ripariamo le barriere questa è la cosa no l'avevo capito però tu hai capito che qua non vai via cosa fai no però da una parte 50 100 g le carote i broccoli sono carote e broccoli ho capito per te che da l'altra parte 150 e l'altro 250 cioè eh vabbè raga meglio di niente perché veramente ci semplifica la vita ok dammi qua più o meno più o meno ok qua vabbè dammi 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 lo prezzo a carota scusate allora lo steak il polano il pollo va a 4 mamma mia vai 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 dammi no guarda vi giuro è la benedizione vai 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 dammi dammi le lance mi rex sì ok perfetto allora questo il pollo va allo stronzo qui perfetto l'urido bastardo mentre questo bastardo si becca questo ok un broccolo e questo qua a posto qua serve uno steak un pollo tagliare con la carota rex e il blocco luogo di modi modi guarda stanno a fuoco fa fuoco a fuoco ecco aspetta che arriva il broccolo starendo il broccolo aria più il broccolo poi sblocca uno di quei cosi no no sblocca la così veramente mi hai due piatti in più eh però aspetta aspetta no che merda ancora sbagliato cazzo allora no cavolo no ripariamolo quello uno di quelli vabbè un punto di preparare adesso riparo anche quello grazie non esiste non esiste basta che blocchiamo una parte siamo a posto e da lancia cosa una carota vorrei lanciare cose lavelo di fix madonna il grassone ma il grassone non lo sopporto guarda quanto abbiamo perso madonna no stiamo stiamo morendo la prima ondata praticamente si infatti però vedi la strategia di usare cioè usiamo i soldi per riparare i robbi oppure facciamo i cosi ma che la bella perché vedi io mi sono distratto con quella cosa là e perché quello là cioè io o penso solo ai piatti o è finita non posso pensare ad altro no devi pensare solo ai piatti purtroppo ahimè così madonna se avete abbastanza punti apritevi i cosi lì sai perché perché se noi apriamo lì sotto noi ci passiamo direttamente le cose da dietro zitti zitti far provare a fare così senza dirmi i punti magari così se no non guardiamo neanche i punti noi giochiamo in pasta ragazzi se no ti dico io quando è il momento giusto di aprire quei cosi perché purtroppo il problema è di sapere pure quando utilizzare perché quella è la fregatura capito perché oh con due piatti comunque siamo riusciti a resistere brevi facciamo prendiamo in considerazione che con due piatti sarò a resistere quindi vuol dire che ce la possiamo fare tecnicamente si sto lanciando le cose ok prendete quello che potete perfetto bravo no cavo qualcosa è finito lì bello no hai pensato giusto piatto si mannaccia no perché i broccoli scarpe non funzionano non vanno buono non vanno fuori uno perfetto scusa che mi sono concentrato qui no no lascia la terra no fai come facevi prima il bottiglava verso la tua direzione e basta non mi rimollava è quello il problema nonno mi rimollava ah ok ok raga piano 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 ritornate come prima stiamo facendo così un'ottima la guarda no chi è che l'ha riparati no riparare ho fatto solo un colpo delta perché se no questo vuole rompeva eh ok ok no peccato questo ciccione di merda che vuole due piatti maledetto bastardo no gli ho dato quello sbagliato affanculo eh ci stiamo stancando capito dopo tutta una gara e cose ci stiamo stancando eh sì perché perché vedi quelli di overcooked i tipi che hanno fatto overcooked a un certo punto hanno detto abbiamo un gioco divertente esageriamo un po' e hanno deciso di esagerare e quindi praticamente sì la mamma la loro mamma sai no la loro bella mamma quando si dice tua mamma ok allora con il ciccione niente ho dovuto no 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 che stai facendo Rex niente ti vedevo fermo ti vedevo fermo no è perché non avevo chiesto da fare ah ma tu l'hai sbloccato questo non lo sapevo sì questo 250 sto bastardo ecco perché è nulla che c'è una merda ma io ho detto che è una merda sto livello tutto è un altro piatto comunque per quello che ho detto non riparare perché almeno nella prima run che si qua passano le sospondano eh lo so però nella prima run hai capito che potevamo star più tranquilli insomma guarda dove siamo eh adesso eh sì vedi devi fare ok 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 vuoi riparare broccoli 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 delta broccoli eh lo so aspetta che ho dovuto per forza mettere a riparare eh vedi che ho dovuto riparare per forza cosa manca qua alla carota lo lancio il brocco e andrà con i cosi è delta roba oh no 200 guardate guardate dai non mi ha fatto ah fino a che buono buono piano ma adesso uno due perché dobbiamo farlo con uno con uno raga ok mo facciano lanciano lanciano guarda 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 mo facciano i bastardi ah adesso vedremo un po' libero cazzo no non voglio lanciare tu fai quel collo che devi fare guarda senta fermo fermo un attimo fermo sì 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 dentro cuore io ora posso del tipo stare un po' presso qua adesso non posso più appresso vediamo scusami no non passare di qua delta per l'amor di dio fai tutto ma non passare di qua eh no era un attimo perché non riuscivo volevo riparare si risolve il problema no non ci provare no perché non me lo fa riparare e non abbiamo soldi dentro eh no è che l'ultimo hai usato tu quel poco io ho proprio del tipo ok piano 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 ripariamo quello lì dove stanno questi uno che è portanzata proprio animale rimani fermo così siamo ancora la terza sì purtroppo secondo me la prima rana dobbiamo fare perfetta capito per ottenere tutte e due quei cose stai sfondando ok riparo io ok riparo riparo tu concentrati anche a riparare da quella parte intanto ti lancio cose e quel poco che ho potuto fare l'ho fatto ma proprio poco ah ma io so pure cretino perché potrei tagliare pure io so cretino vedete perché la roba qui è vero è vero so cretino adesso no no lanciagli lasciala fare a grigù se io ti lancio le cose tu stai lanciando ah tu stai lanciando no dico non ti ritenere perché mostralmente l'hai preso e Grievous te lo voleva pigliare te lo voleva rubare no merda me l'ho sbagliato guarda tutte e tre guarda come sono pazzi psicopatici omosessuali così al caso basta 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 guarda 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 due uno due ok a posto eh raga che riparate le robe con i punti che faccio così è quello che si può fare perché siamo limitati insieme esatto uno eh io cerco eh no qua zero non ho più nulla ti servo broccoli ti lancio un po' che brocco e una patata oh uno perfetto no 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 non ho più la roba immediatamente fatto 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 non possiamo fare nulla aspetta niente non posso fare più nulla no ferma ti faccio io faccio io avevo tutto io tutto io ah madonna tu hai capito che l'ultimo giro sarà un massacro perché questo la valo la spacca praticamente ok credo che ti lancio solo dei broccoli Rex Rex solo broccoli perché di materiale abbiamo abbastanza cerchiamo di tenere tutto il vicino possibile per io accumulo qua dietro man mano che finisce io lo do eh aspetta non può fare nulla non può fare nulla è il tappatate è altra roba calote raga riparate cazzo 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 è un decimo di secondo è un decimo di secondo non c'è niente da fare è un decimo di secondo di cavolo però ce l'avevo quasi fatta stavolta vedi che era perfetto adesso è che dobbiamo fare perfetta la prima run si la prima run è perfetta e poi ottenerà appunti perché poi era perfetto il resto io adesso mi trovo da dio provo una preoccupazione che va un'ubita praticamente dobbiamo ottenere abbastanza punti e soprattutto non dobbiamo spendermi per riparare no infatti ti dico solo una cosa io cerco di passarti più velocemente la roba prende quello che dovete prendere io ti lancio tutta la roba possibile la prima run anche se perdiamo un po' di vita non fa niente ma un po' di vita ce la possiamo fare chi se ne frega è che dopo sblocchiamo tutto dobbiamo fare 300 o quasi 400 punti se ci faccio 400 punti raga abbiamo fatto perché sbloccheremo taglia patate taglia patate e carote si io ti lancio il più presto possibile però ecco scusami lanciali a tutto e basta ok a posto è il momento a posto si perché i punti non ci mettono niente capite il problema è le riparazioni è già no ma io adesso mi sono memorizzato le ricette quindi le sue memorie non devo più guardarle basta cioè le intravedo il suo giorno cosa fare perfetto rex ti ho passato tutte le carote possibili immaginabili quindi dovresti si senti il momento a posto non voglio lanciare così se no manca che finisce lì dentro a casa credo eh si può fare perfetto ok uno perfetto ok ti lancio una carota fra poco no no non lanciare la carota cazzo vedi che avevo che succede no no prendi fuori rex cosa fai ho sbagliato volevo prendere la carota ah ok allora due tre e pollo perfetto no 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 delta cazzo mi spingi no io non ho visto niente eh dai che queste carote dai questa carota cazzo eh ecco prendilo qua metto qui bravo bravo delta aspetta che faccio prima fare a aspetta aspetta ok prendi raga riparate il il no vabbè uno almeno uno e due possiamo farlo per quello sì era quasi perfetto uno ce lo siamo tolti però un coso dai aspetto solo che pulisce tutto il piatto che ripo se posso ok posso lanciarti ti lancio la roba il più possibile ti e il problema se che è da me che è duecentosè cinquanta da te centocinquanta non ci metto niente capi e lo so il problema è che qua è aperto di qua eh lo so non serve a niente praticamente e palesemente dico sei minuti però se facciamo la seconda run ricevere danni o comunque avere la vita decente possiamo farcela pulisci così dai l'altro piatto perfetto ti lancio più carote possibile ma ti lancio le patate guardo per due punti di merda guardate per due punti di merda un po' sapere qua dai dai no ho dovuto metterglielo per forzato questo ho dovuto mettere va bene va bene tranquillo hai fatto bene dai vai dentro asaf lancia bella aspetta che riparo qua ok portami i piatti ragazzi qualcuno di voi vuole portarmi piatti io faccio io faccio 1 metti uno la perfetto che cavolo forse ora già dobbiamo fare un po' così di 200 ora dobbiamo giocare bene ciao facciamo aspetta riparo un po' di là 1 2 basta che stanno a due ma è quello l'importante che stanno a due eh sì tu ripara anche là così se no mi devo conoscere un po' di là il brocco ti devo lanciare aspetta ok dritto sulla nuca dritto nel retrovive cavolo no 2 vai a chiudela vai a chiudela perfetto così siamo tranquilli ah ma lì è proprio tutto block 1 aspetta perché ne faccio una alla volta 1 e 2 quindi vuol dire che qua posso fare un altro 2 ottimo oh grande oh 3 l'abbiamo fatto siamo a cavallo patate patate basta quel brocco di patate vedo che io faccio quel che mi lancio io faccio ciò che mi viene detto più o meno in un esatto ok ma li abbiamo un po' troppe prendiamo qualche carote e siamo a posto ahia mi è menato guarda come si sciala grimmus del tipo ah 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 ci sono solo io non posso fare nulla lì vai a chiudere vai a chiudere bravo ecco bravo sì sì a turni vedi bravissio un altro un altro basta basta tocca a me qui vedi 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 guarda che bello guarda che comodità proprio benissimo ti devo lanciare patate 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 ragazzi altre patate siamo un altro siamo sempre patate ti sto lanciando un po' troppo di patate le patate non mancano mai sempre ben accetto anche perché poi tutti hanno chiudete il poso raga chiudete il tipo se potete si provo vado bene scusa basta l'unica l'unica cosa che hanno tutte le ricette in comune le patate non posso mancare da nessuna parte a prescindere maledetti irlandesi e loro patate madonna che casino questa manetta allora 1 2 e 3 no che merda non mi si doveva ok basta stiamo fermi troppa roba cerchiamo di cerchiamo di dare la possibilità a rec angrius di gestirla meglio adesso paura paura palico diciamo è più che più o meno cerchiamo di cerchiamo di mantenere vedi questo cosa in equilibrio vedi adesso è fermo però non abbiamo più un punto deve consegnare qualcosa allora facciamo eh sì ok ok 1 vai là bravo perfetto eh buon finito scusa eh non posso fare nulla adesso dobbiamo solo aspettare che consegni ok grivus vai da te rex volevo dire e vai fianco a te con il grassone il grassone il grassone che è un problema ok non siamo di nuovo a zero è normale purtroppo ok patate ti lancio patate rex rex patate ti lancio un sacco di patate perché non servono patate e broccoli nooo no no ho aspettato troppo mi spesso a lavare i piatti merda potevo ne avevo due pronti vicini con un nuovo record qua ok stoppiamo un attimo pure la registrazione a seconda registrazione sulla stessa mappa sulla stessa mappa mamma mia ma questa registrazione la potresti far fare tutto questo video potresti farlo tutto da velocità tipo livello maledetto ma io secondo e poi non è neanche lui un altro dopo no ma il bello che io sono sicuro che questo è quello più eravamo l'ultima ondata rex e quello era il clou cioè fossi riuscito a servire quei due piatti al lungo troppo lento no è che ho sbagliato guarda se non avessi sbagliato perché vedi fai un errore sei finito per sempre io mi sono sbagliato che ho messo due però aveva ragione delta dopo un po' smettetela di darmi ingredienti sennò fate troppo mucchio e non riesco più a capire allora facciamo così cerchiamo di avere tutta la full vita del castello alla prima run perché se facciamo la prima run ragazzi è a posto perché l'avete visto ci mancava ci mancava pochissimo ci mancava pochissimo penso io di aprire le gabbie qua rex perché secondo me penso prima quello da 250 da me che è un casino quello da me non è uguale in realtà perché tanto uno vale l'altro eh no perché a te costa di meno a me di più capito? eh ma tanto servono tutti due la stessa maniera che fai prima uno prima l'altro cambia po' eh però se io apro e facciamo un tot di punteggio le per tutte e due in un colpo solo ci togliamo pensiero eh va bene c'è un tentativo e mo vediamo mo cerchiamo di concentrarci a consegnare cose adesso io ti do tutti i materiali per tagliare per darti supporto quindi mo dovresti essere a posto per il momento no 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 perché la carota è uscito là mannaccia ho avuto paura che si pregiasse fuoco no in realtà era tutto calcolato che poi dal termine no ma la carota è passata è a mano sua con una cattivera di summa apparenti quella cosa grazie madonna quella carota voi la carota è malvagia una volontà propria una volontà propria ma seria polla ok aiari il castello va giù il castello prendi la roba prendi la roba ah io prendo ma il castello va giù eh lascia stare che perde un po' di vita non fa niente ce la facciamo nella prima run no no non lancio lancia passa questo prendi a quell'altro passalo grande apri rex grande ok vedi vedi a posto ora si che si ragiona dai datemi i piatti ragazzi mi piatti si faccio io faccio io faccio io ok ma possiamo concentrare tagliate come la più non posso sì 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 patate patate dagli patate dagli patate che sono patate tutti costi sì sì ma mo togli anch'io eh perché mo posso tagliare anch'io ecco scusa mannaccia sta una scassa lì guarda oh più più andiamo avanti più danno fanno danni tantissimi blocca lì rex rex subito sì uno e due uno e due uno e due fai a tutte e due così ti tolgo pensare anche uno che sta no vabbè sì sì so che non posso fare nulla fino a quando Grievous non no ma cazzo come ho metono i broccoli no no merda merda ok questo è buono ok i broccoli broccoli rex 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 i broccoli broccoli che già abbiamo perso più vita del previsto e che cavolo è allucinante ok ok buono vedete sono dovevo li volevo allora pollo patate patate cavolo è già finito patate e carote patate e carote eh lo so comunque questa è l'ultima partita eh io mi sto già molto stancando come va mi sto stancando ok no basta broccoli raga patate patate tagliatemi patate subito facendo e carote arrivo ok ok buono 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 basta basta aspetta perfetto perfetto un'altra carote siamo a posto arriva ti passo le cose diciamo che sia buono ecco qua buono allora fuori uno no zitto tu ecco quello attraeva qua chiudi tu perché qua facendo sto facendo poi ok a me va bene a due a me va bene a due quindi vuol dire che sia a posto 1 2 e 3 ma donna questo non sembra un po' più sbarazzare niente ha scassato tutto ma poi non si può riparare il muro il la 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 pianta la dialitare ora ok allora raga fatemi più patate più carote più patate più carote sto facendo la carota tutto allora arrivo ok io stavo facendo tutto la allora ora lo ritengo qua e quando poi non ho bisogno di vivere ok intanto lancio i broccoli non so se io so che io però posso dire una cosa io sapevo che le feste di natale non portano mai una cosa bene ok lanciami una carota rex riparate il coso riparate il coso vi prego tu 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 rex eh vabbè e come faccio non posso fa nulla no ma non funziona non andava bene quello benissimo il resto con il secondo no non volevo riparare non sono visto che l'avamo un po' più qua e la patata non riparare la patata alessimo posto non so io non stavo fissato là perchè ecco appunto la ritora non posso non è nulla buono perfetto madonna le riparazioni come se brutte sei bloccato proprio dai soldi i soldi i soldi ok allora rex carote carote e patate perchè di broccoli ce ne sono più che sufficienza carote e patate tante carote e tante patate delta mi sto lanciando sto lanciando sto lanciando sto lanciando tu chiude madonna no mi sta nel mal di testa un pochettino con questo e credo che sia stanchezza madonna i ciccioni i ciccioni sono un problema un problema nel camerino sociale non è il problema ok buon 28 con il sociale non è colpa mia è colpa loro che sono delle case giganti no cazzo ma era una quinto è andato di nuovo è l'avevo perso troppo alla prima come ha detto delta due con le più in fretta la prima non ha il problema sai qual è stato che dopo un po c'erano certo un punto in cui avevi ho fatto una e due errori ma c'erano troppi broccoli si servivano più e ma il problema è che ci metto così tanto tempo a mettere la roba dentro che non riesco neanche tanto a vedere bene gli ingredienti faccio così stoppiamo qua raga che mi sto stancando madonna facciamo un secondo di pausa ne facciamo un'ultima no io non ce l'ho fatto domani non sto sveglia presto che viene una signora di polizia domani mi rompe troppo perché eravamo così vicini sai cosa vuol dire ci stiamo il pezzettino lì da superare il problema è che ci stiamo concentrando troppo e ci stiamo pure stancando consiglio di riposare così abbiamo mente fresca magari una forza volta e mo che sappiamo bene come fare mi avete detto livello no ma sto livello è bastardo perché ci sono quei livelli che del tivo manco ho tutto niente punto cioè non puoi manco dire ok ci hai arrivato almeno a un quarto ondata ecco il punteo o tre stelle o tre stelle esatto facciamo così la stacchiamo qui salve ragazzi qui dal 38 ci siamo stiamo sclerando come dei dannati per un fottuto livello un maledetto livello e abbiamo fatto tre video per sta cosa tre video sottolineo tre video riesci a capire del fatto che ero concentrato dal fatto che stavo completamente zitto per tutto il tempo è una cosa che non ho fatto no perché veramente sono cercato in tutti i modi di azzeccare tutto ogni volta e certe volte c'è cliccavi se no il mouse un anno secondo dopo e te lo metteva io stacco raga qui dal 38 al prossimo video passo e chiudo